Amici appassionati di Football Manager, buonasera io sono Senix e oggi siamo tornati con Football Manager 2021 Per l'appunto, notate dal mio tono di voce la mia sicurezza, la mia fermezza nell'affermare tutto ciò che sto dicendo Perché è arrivato il momento di cambiare, basta, basta, basta con il lamentarsi, basta con la mestizia, con le disgrazie a cui siamo abituati Perché da oggi si cambia, oh finalmente cambiamo mentalità, cambiamo squadra, cambiamo tutto Dunque i primi cambiamenti arrivano proprio dalla tattica, ho studiato, mi sono messo proprio di notte con carta e penna come si faceva all'epoca E ho studiato questa formazione, abbiamo infoltito un po' il centrocampo, c'è un riferimento, abbiamo tolto un attaccante C'è adesso un rifinitore che sarà Papa, c'è un mediano incontrista che sarà Paghera, c'è Lodi ovviamente come regista, le due ali Insomma dovremmo aver risolto un po' il problema del subire troppo dalle nostre squadre avversarie Poi ho cambiato ragazzi anche l'allenamento nella prima volta, per la prima volta nella mia storia Ho preso un allenamento che trovate sul sito di Panos FM Italia Perché come ho sempre detto io di allenamenti non ne capisco una mazza Non essendo né del mestiere né un ex calciatore professionista o semplifressionista Quindi mi sono affidato a chi sicuramente a livello di training ne capisce più di me E quindi questo è l'allenamento che ho scaricato Poi se siete interessati magari scrivetemelo qua sotto nei commenti E vi dico anche il nome dell'allenamento Detto questo, signori, lo staff è sempre quello Detto questo, signori, siamo pronti a vedere se effettivamente tutti questi cambiamenti porteranno dei frutti positivi Oggi andremo a vedere Pescara, Legnago e Fano Ora, totto il Pescara dove non abbiamo speranze, diciamocela chiaramente Perché comunque la capolista si sta giocando la Serie B e già 5 punti avanti alla seconda Insomma, questa la perdiamo e lo sappiamo tutti Però, Legnago e Fano sono Il Legnago è a pari punti con noi quindi una vittoria sarebbe importantissima E il Fano è a 11 punti quindi una vittoria sarebbe altrettanto importante Abbiamo un Pecorino che è in stato di grazia per il momento Quindi io intanto direi andiamoci a fare sta sconfitta contro il Pescara Siamo in casa nostra però lo sappiamo Ragazzi, io guarda non ci metto neanche il cuore perché tanto È giusto che sia così tra l'altro È giusto che la sconfitta arrivi perché contro queste squadre è giusto che l'andiamo a perdere Quindi però magari una sorpresa divina Magari un miracolo celeste Ma chi lo può sapere mai? Io non ci metto speranza Ma mai dire mai Never say never Direbbero in quel d'Inghilterra Intanto attenzione signore perché Walter Bunkbattner Il presidente del Sud Tirolo ci offre un posto alla conduzione tecnica della squadra Ora, ovviamente il Sud Tirolo Dove sta? Era ultimo il Sud Tirolo Ma ora, ma secondo te, signor presidente Ma io me ne vado da una squadra di pippe per andarmene una ancora più disgraziata E non mi pare il caso, sinceramente Già ho i miei problemi con questa squadra che ho costruito io tra l'altro Figuro di arrivare in una squadra che non ho Non so neanche che squadra è No grazie, anche perché lo abbiamo detto Dobbiamo portare questa squadra in serie a costi A costo che dovessero volerci 40 anni, signori Ma noi la porteremo in serie A Arriva anche Mario Prezioso, centrocampista Vi è piaciuto molto, ho letto anche i commenti del video precedente Quindi arriva a rinforzare il centrocampo Abbiamo un po' di problemi per quanto riguarda invece la parte destra della squadra Perché abbiamo avuto diversi infortunati proprio in quei ruoli Lì, quindi probabilmente in questa partita dovremmo andare a mettere un rimpiazzo Perché non è rimasto più nessuno, perché siamo sempre molto fortunati Ad esempio, eccolo qua, Vricchis Però non è ancora ovviamente in condizione di poter giocare Quindi eviterei Allora, la formazione è questa L'Odisi è infortunato perché 3-9 giorni, vabbè 3-9 giorni, è paziente Tanto questa partita saltava, ragazzi, lo sappiamo tutti Allora mettiamo, mettiamo proprio lui Mettiamo Mario Prezioso, ragazzi Sì, non è l'Odi, lo capisco Ragazzi, non è l'Odi, lo sappiamo bene Ma se sei infortunato che devo fa Se sei infortunato Ora, io non vorrei, ragazzi Perché per chi gioca a Football Manager Sa benissimo che il bug degli infortuni È un bug proprio storico Che si porta Football Manager si porta da una vita Quindi non vorrei che sto bug sia ritornato L'anno scorso non abbiamo avuto tantissimi problemi A livello di infortuni Non vorrei che quest'anno Si ripresenti questo problema Ecco anche perché ho cambiato Gli allenamenti Per renderli un po' più equilibrati Comunque, intanto La formazione è fatta Mettiamo prudente Perché siamo sempre Contro la prima 43, prezioso Va benissimo Vai Andiamo a vedere sta disgrazie che ci attende Spogliatoio Guarda, io stringerei i pugni Noi abbiamo Bravo Andate in campo e dimostrate a tutti Che potete farcela Bravo Ma è un motivatore nato il nostro secondo E' mazza Faceva proprio il mental coach Il nostro Danny Buffon 5 minuti 0-0 Già per noi è un ottimo risultato Eccola Jungdal Pala nostra Sta piovendo Potrebbe penalizzare una squadra Forte e tecnica come il Pescara Prezioso Sereni Avanza Con calma Eccola Bravo prezioso Complimentissimi Subito un Un passaggio sbagliato Bravo piazza Mamma mia Ancora prezioso Papa Pegorino Piazza Piazza La piazza Mandò la piazza Piazza Mannaggia a te Vabbè Vabbè Un'azione E' buono E' buono Dopo già un quarto d'ora La prima azione era nostra Eh Ragazzi Oh questo è tanta roba E' tanta roba Segno che comunque il nostro modulo potrebbe funzionare Certo hanno fatto otto tiri noi uno Però In generale Mettiamo caso Comunque sempre contro la capolista Stiamo a giocare Ventola Una volta era Nicola Galano Eccola Borrelli Perfetto Vabbè Va bene Va bene Io l'avrei anche saltata questa partita Vi dico la verità Perché tanto lo so bene che Non si può Non si può fare niente Andiamo avanti Ordina a pagare Di marcare uomo Borrelli Dai e fallo Ordina glielo 1 a 0 Il primo tempo è finito Mostratemi qualcosa di diverso Scusate Nel secondo tempo Ora Abbiamo fatto due tiri Loro ne hanno fatto dieci Di cui quattro importa Non è molto bilanciata come partita Se vogliamo Però Ventola La mette in mezzo Nemushai Ed è anche una squadra che conosciamo bene Il Delfino Perché Sappiamo tutti Perché lo sappiamo tutti No E' oh Che Abbiamo una bella Carriera anche nella nostra Master League di PES Proprio col Pescara Intanto vabbè Rigoberto Rivas Va a segnare Il 2 a 0 Vita facile Vita facile Per il Pescara Che passeggia In quel di Ravenna Perry per l'omolino Fallo Mazza Piazza è proprio distrutto Un uomo morto Piazza Mamma mia E allora mettiamo Io direi a questo punto Chi cazzo non la metto Mettiamo 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 E Vanacore Ragazzi È l'unico che può stare Lì a sinistra Lomolino Forse Sì Forse è meglio Lomolino Di Vanacore Così Vanacore Può scendere Lì Nella linea di difesa Di Ambo Galano Ancora il Pescara Alla ricerca Nel 3 a 0 Galano Bravo Gidai Che la va a rubare Scara Gatta Inesistente Il Ravenna Ma ce l'aspettavamo Ciccone Rablu Di Ambo Una squadra molto diversa Da quella A cui siamo abituati Nella Master League Il solo Galano Visto di Riconoscibile Lamento Sta faticando Non gioca bene Ok Che sì Effettivamente Potremmo andare A fare dei cambi Allora metterei Fiorani Per Prezioso Che non ha Sfigurato Completamente Però Poi metterei Shiba Per Scara Gatta Che anche Ammonito E basta No manca un ultimo cambio Metterei Khalil Per Pava Mettiamo anche A Tanuzzo Nostro Ma sì Ma che ce frega Tanto peggio Che così Che cosa vuoi Che accada Tre tiri Però abbiamo fatto Zero in porta Per tutta la partita Saranno contenti Gli spettatori paganti E finisce Questo strazio Grazie a Dio Va bene Ci sta Sapevamo Che non potevamo Vincerla E infatti Non l'abbiamo vinta E vedi Lo sapevamo bene Non ci soddisfa per niente Il risultato Continuiamo E andiamo avanti Ora Il vero test La prova del 9 Arriva proprio adesso Contro queste due squadre Ovvero Il Legnago E il Fano Quindi Qualora Vincessimo Contro queste due Potremmo dire Che il modulo Effettivamente va bene Che cosa vuole Vorrebbe giocare di più E vabbè E discutiamolo E allora Non gioco di titolare abbastanza Penso che tu siamo Sì 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 Ti farò giocare di più da titolare Non ti preoccupare Anche perché tanto Non abbiamo più nessuno Sulle fasce Quindi Sarai costretto a giocare Caro il mio Sereni stai sereno Quindi stavo a dire Che se dovessimo vincere Contro il Legnago E Fano Signori Vuol dire Che questo modulo Ce lo portiamo A casa Oh benissimo E visto che Tra l'altro La partita arriva Tra ben 12 giorni Io direi Che In uno schiocco di dita Ci possiamo vedere Direttamente Alle formazioni Ci siamo Il momento della verità È arrivato Torna Lodi Torna Sereni Torna Vrikis La formazione È la migliore possibile Ci spostiamo anche Con una mentalità positiva Perché vogliamo attaccare Sin da subito O si fa il Ravenna Oggi O si muore Signore Quindi confermiamo Questa formazione Perché vogliamo subito Andare a vedere Se avremo ragione O no Quindi vediamo Spogliatoio Sì Punta il dito Mi aspetta la prestazione Di gran lunga Migliore Sì Bravo Bravo Ci aspettiamo Una gran bella prestazione Oggi Contro una squadra Alla nostra portata Quindi oggi Non abbiamo scuse Ragazzi Per favore Non mi date un'altra Un'altra cortellata Per carità di Dio Perché io non ce la faccio più Però già due tiri Un tiro Importa Quindi già abbiamo superato Di gran lunga Le statistiche Della partita precedente Quattro tiri Tre in porta Ottimo Attenzione Eccal Sempre loro Poi ci sono Incredibile Fiorani Contropiede Degli innocenti Va a ricoperare La mette in me Vabbè Fuori gioco netto Arbitro Eh mamma mia Quello era Un chilometro Era Oltre la linea Va bene Bravi Bravi Comunica Domani Andiamo di più Mi fa piacere però Che tutto il primo tempo Sia passato Senza che nulla accadesse Anzi Abbiamo visto una sola azione E quella Ovviamente Non era nostra Che culo Allora Stavolta Lanciamo la bottiglia Non mi soddisfa Per niente Un'azione Signori Una Ma che ve chiedo Ma che sto chiedendo La luna Che sto chiedendo Amore Niente Sempre l'oro Gli abbre Degli innocenti Luppi Cioè luppi Questi hanno luppi Signori Sereni Mamma mia Rolodi bravo Vricchis Con calma Vricchis Puoi avanzare Emanuelino mio No Ma perché Sempre sfortunato Facciala con me Niente Ragazzi Io non ci posso credere Veramente Non ho più parole Non so più che dire Ah guag Grazie Grazie E beh E beh Bravo però La nostra linea difensiva Si è mossa bene Stranamente Dai ragazzi Che secondo me Ce la possiamo portare a casa Moretti Dai Bravo Lomolino Lodi Ancora Lomolino Per Cicciuzzo Sereni Fiorani Scanagatta Vricchis Ancora per il nostro Scana Vai Scanuccio In mezzo Pecorino Maria Santa Offensiva Offensiva Vogliamo attaccare Stiamo giocando bene Dominiamo di più Stiamo giocando bene Fallo Leva Scanagatta E metti A Gidai Bravo Cicciuzzo Ancora lui Che protegge Palla Pecorino Ti prego Non c'è due Senza tre Ma perché Perché Questa pestizia Sempre Perché 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 Mi volete così male Perché Che vi ho fatto Io Che vi ho fatto Potevo stare tranquillo Potevo prendermi la Juve L'Inter Il Milan E portare una carriera Con queste squadre Che ci voleva Aspetta 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 Perché c'è un'azione In corso Un secondo Mettiamo pausa Mettiamo papa Per Sereni Vricchis Giustamente Anzi Guarda Mettiamo Vricchis Per Sereni Ok E Sereni Si sposta là L'Omolino Possiamo mettere A piazza Che può tornare Tranquillamente Nella sua Fascia sinistra E Paghera Per Fiorani Ok Vediamo Cosa succede Ah non succede nulla Ma c'è la Nazioni L'avevo visto Arbitro Siamo troppo sfortunati Ragazzi Siamo troppo sfortunati Viviamo di una sfortuna Che è veramente Inimmaginabile Vabbè Mani sui fianchi Queste gare Si dovrebbero vincere Però abbiamo preso un palo Pegorino si è magnato Altri due gol O forse anche tre Abbiamo subito poco Però c'è da dire questo L'unica nota positiva È che la squadra Ha subito poco E comunque Rispetto alle partite Precedenti Tolto Vabbè Da adesso fisicamente Dalla sedia Me ne vado via Non me ne frega Basta Non ne posso più Di subì Queste angherie È il palo È la traversa Gli autogolle È quello che rimbalza La palla sulla faccia Dalla sua E gli va All'avversario E basta Signori Basta E la ruota La ruota deve girare Si dice La ruota gira Però sta ruota Non gira mai Comunque Avevamo detto Per l'appunto A inizio video Basta Lamentarsi E lo stiamo facendo Per l'appunto Allora Siamo già arrivati Perché come vedete E qui Le cose vanno Velocissime Perché siamo arrivati Già alla partita Contro il Fano Si gioca Dopo due giorni Dalla partita Contro il Legnago Quindi Io confermerei Questa squadra Dobbiamo andare Probabilmente A fare Diversi cambi Durante la partita Perché Saranno molto Molto stanchi E lo andremo a fare Intanto Lasciamo la mentalità Positiva Signori Perché io me lo sento Paghera non è in forma Vabbè tu Non ti preoccupate Paghera Adesso in forma Ci entra E andiamo Alla partita Io voglio vedere Allora Stringi i pugni Mostratemi Quello che sapete fare Ma non stringi i pugni La testa Io vi staccherei No mi dissocio Non è vero Basta Abbasso la violenza Dieci minuti E tutto va bene Quindici minuti E tutto va bene Venti minuti E tutto va bene Vabbè Iniziamo Ho capito Domande di più Squadra intera Chi c'è? Jung Dall Attenzione Palla proprio Della Ravenna Un rilancio lungo Non si sa il motivo Visto che tutta la squadra Era lì A suo supporto Barbuti Cioè Una squadra che si fa segnare Da Barbuti Ragazzi Che speranze Che autostima può avere Ditemelo voi Perché io non lo so Lodi Sereni Perry Dametto Scanagatta Vricchis L'appoggio per Lodi Ancora per Vricchis Oh Alleluia E basta E mamma mia Ma manca Se andiamo Se dovessimo andare a Lourdes Quelli ci buttano fuori Perché veramente No siete un caso irrecuperabile E Sempre ciccio Lodi Tutto passa Dei piedi di Lodi Ragazzi C'è poco da fare Senza Lodi Questa squadra serve nulla E proprio lui Ancora Lodi Che la mette in mezzo Per G Dai Non ce ne va mai bene Una volta Una volta Una volta Un po' di fortuna Mai Ancora il Ravenna Che adesso Sulle ali dell'entusiasmo Ecco appunto Perfetto Parlati Il contropiede Bravo Dametto Che però Lo rallenta e basta Ferrara In mezzo Russo E poi tutti Tutti i tiri So goal Ragazzi Tutti i tiri So goal È incredibile Tutti i tiri So goal Tofanari Di sabatino Tofanari Vricchis Pecorino Ma vabbè Ma basta È basta Però È mamma mia Oh È che cazzarola Ma ogni volta Ma poi uno È me si deve Nervosire Mi si devo È un palo prima È un attraversa adesso Ma pure a porta vuota Comunque 2 a 2 La squadra è viva La squadra c'è Finisce il primo tempo Un pareggio Non è successo Assolutamente nulla Spogliatoio Lancia la bottiglia Non mi soddisfa per niente Quello che ho visto Vorrei Qualora fosse possibile Che voi vinciate Lodi In mezzo Pecorino Mio 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 E devo calma Perry Sereni Ancora per Perry Roberto Carlos Perry Bravo Con il tacco Per lodi Sereni In mezzo C'è Vricchis Era troppo Era troppo intelligente Sarebbe stato Non rimetterla in mezzo Invece che tirata Alla linea di fondo No ragazzi Ma che parla a fare Perle ai porci Io lancio Perle ai porci Non c'è niente da fare Non c'è niente da fare Settantesimo Eccala Parlati La mette in mezzo Bravo Jungdall Ma chi è questo Ma Ma che è Nuovo bug Adesso Ma che è sta cosa Quelli con la Casacca nera Ma Ma che Ignoranza Pure 40 anni Che fanno sto gioco Ancora c'è Sostra Pecorino Emanuele E finalmente Si è lodato L'altissimo Signori Ce l'ha fatta Non esultiamo troppo Perché Manco quanto 18 minuti In 18 minuti Sto gioco Ci fa subire 5 gollo Come minimo Perry per Vanagore Valla a fare Ottantesimo Ok Adesso è il momento Di andare a fare Noi dei cambi Decisi da noi Perché Come vedete Qui L'omolino Per esempio Potremmo toglierlo E metterlo Al posto di piazza Dunque Poi Vricchis Purtroppo Come detto Non ha C'è Martignaco Che è tornato Potrebbe Sì Martignaco Mi ispira 1 2 3 4 All'odi Ragazzi Lo leviamo E si Mettiamo a prezioso Per Per l'odi E si 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 Così almeno il centrocampo Lo rinfreschiamo un attimo No E dai Ok Ci dai purtroppo Perché l'odi è uscito Pecorino Ancora lui Va bene Va bene Questa era difficile Ci sta Se è difficile Io non mi arrabbio Ma se è davanti alla porta E me sbaglia Io un attimino Mi riposto anche Nervosì So fatto De pelle di ossa Pure io Sereni Paghera In mezzo Ci dai Pecorino mio Little sheep Little sheep Grande 4-2 La va a chiudere Lui 18esima La stagione Pecorino toglie Pecorino dà Ah Mamma Un parto podalico Ogni volta Che devo fare Episodio È incredibile Signori 4-2 La squadra c'è E io dico Che il modulo Va bene Da metto È vero Ancora subiamo Ma purtroppo Ragazzi La difesa è quella Perciò Che dobbio fa Vanagora Ancora per Pecorino Potrebbe portarsi Il pallone a casa E se lo porta Pecorino Da che non segnava Manca porta vuota Adesso Ogni tiro e gol Va bene Va bene Ah no Quadro Poker addirittura Poker Quale pallone a casa Se porta pure l'arbitro Questo Il poker Di Pecorino Signori Punte il dito No Mani congiunte Sono davvero felice Per una volta Ve lo posso dire Dopo 15 sconfitte Sono davvero felice Della vostra Prestazione Fuori classe Pecorino In stato di grazia E signori Questa E la partita Della svolta Andiamo subito A delugiare Pecorino Braccio intorno Non si potrebbe In tempi di covid Ma a noi Non ce ne frega Una mazza Tanto non ci vede nessuno Sei stato Fantastico Superlativo E tutti gli altri Oggettivi Aggiungeteli voi Perché a me Non me ne vengono in mente Allora L'episodio È finito È finito Dunque Abbiamo Una sconfitta Un pareti Una vittoria Assolutamente Un episodio democratico Se vogliamo Il prossimo invece Andremo Padova Fermana E Real Giulianova Attenzione Real Giulianova Fa paura Un nome che fa paura Dunque Aspetta Mi sono già scordato Padova Fermana E Giulianova Padova Fermana Giulianova Padova Ottavo Perso Fermana Quattordicesimo E forse ce la possiamo giocare Giulianova Ultimo Vittoria Ok Potrebbe essere un'altra Uguale Vittoria Sconfitta E pareggio Lo vedremo Il prossimo episodio Ragazzi Fatemi sapere la vostra Qua sotto Nei commenti La sfortuna Prima o poi Deciderà di girare i tacchi E andarsene Da qualche altra parte Per adesso però Ce la dobbiamo tenere Ma nonostante tutto Siamo Siamo lì Siamo sempre lì Anzi la classifica Effettivamente non l'ho fatta vedere No Eccola qua A tre punti Dalla zona playoff Quindi restiamo sempre In scia Un bel commento Un like Una condizione Un'iscrizione Per non perdere Nessuno dei prossimi episodi Io come sempre Signori vi voglio Bene a tutti Ci vediamo domani Con un nuovo gameplay Ciao Un'iscrizione 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 Un'iscrizione